Esce ancora Cittam su di lui, palla per Hopkins, fuori per Senglin, Senglin contro Arlan Popolo, si butta dentro, giro da sotto, bel canestro, rovesciato di Senglin. Blocco di Hopkins, difesa flash di Totè, palla adesso per Anim che si butta dentro, scusatemi da Senglin, si apre tutta la difesa pesareta. Per il campione nativo di Santa Fe, attacca Cinciarini, più nove di nuovo per Pesaro, Cinciarini fuori per Buriannazze, fuori ancora per Senglin che si butta dentro, realizza un grande canestro Senglin, ma questo è forte veramente. Attacca Cinciarini, più undici per la Carpegna Presciutto, al tiro da tre subito Vitali, sbaglia, Celia prende il rimbazzo, Reggio Emilia, tiro dalla lunga distanza di Senglin che va a realizzare.